Patrizia Zappa Mulas, 1956, l'orgogliosa, 1998. Appena entra in terza C, la signorina Pessina gride il mio nome. In classe scende un silenzio di pietra. Mi alzo di scatto. Lei mi fissa senza parlare. All'aria sconvolta. In direzione! La sua voce mi investe come un vento bollente. In direzione non c'è mai andata nessuna dalla prima elementare. È successo qualcosa di gravissimo. La mamma è morta. Ora me lo diranno. Sono sconcertata dalla rapidità con cui succedono le tragedie. Mezz'ora fa stava ancora bene. Mi avvio la porta con tutti gli occhi addosso. Le gambe tremano così forte che mi pare di cadere. È successo qualcosa di grave alla mamma. Ora me lo diranno. Lei mi segue oltre la porta. I nostri passi prendono a rimbombare nel corridoio vuoto. Ora me lo diranno. Mi pare di svenire. E cadrei sicuramente. Se non mi sollevasse per il braccio lei premendo i polpastrelli dentro la carne. Le sue dita mi stringono le vene. Non ho il coraggio di perdere il ritmo del suo passo e sto correndo anch'io. Così agitata la signorina Pessina non l'ho vista mai. Deve essere gravissima la cosa che è successo alla mamma. Me lo diranno ora. Lei bussa ad una porta a vetti smerigliati. Me lo diranno ora. Entriamo. È qualcosa da dire? La direttrice in piedi appoggiata alla scrivania con le dita aperte a raggera come artigli di un uccello sul trespolo. Non mi guarda. Non sta parlando a me. A chi l'ha chiesto? A suo fianco c'è un vecchio in camice nero che non risponde. È neanche la signorina Pessina. Restiamo tutti e quattro sospesi nel silenzio. Finché la direttrice spalanca la bocca e un rumore di metallo percosso mi si abbatte sulla testa. Che cosa hai da dire? Non capisco. Forse la mamma non è morta. Ma non sono sicura. Aspetto che lo dica lei e la testa mi pesa come un sasso nella gola. Mi sta strozzando. La mamma non è morta. Non sembra proprio morta. Sono le uniche parole che mi dischiarano il cervello. Ma non mi azzardo a chiederlo a quegli occhi così scuri. Che cosa hai da dire? Si leva più energicamente per scuotermi. La sto fissando con la bocca spalancata. Non l'avevo mai vista da vicino. Non mi esce la voce. Faccio no con la testa e lei perde la sua divina distrazione. Mi punta addosso le pupille allarmate e grida. Le firme! Le firme! Le firme! Le firme! Quelle F mi sbattono in testa come uccelli contro un vetro chiuso. Sono interdetta. Sei stata tu? Ma no! Balbetto con un filo di voce per placarla. La signorina Pessina china la testa e una lacrima le tremola sulla punta del naso senza cadere. Devo aver sbagliato la risposta. Adesso la direttrice e il segretario mi fissano arrabbiati e la violenza dei loro sguardi a investirmi di vergogna e di chiarezza. Non è la mamma. È un'accusa. Se è stata tu a fare le firme, ripete la direttrice. Faccio di nuovo no con la testa e sul mio no cade il gelo. È il calore bruciante di quel gelo a sciogliere il mio pianto. Dietro il muro d'acqua salata che mi scotta le guance, sento che sono fermi immobili tutti e tre. Maestra, direttrice e segretario. Non respirano quasi. Si inghiozzo più forte per prolungare la tregua. Che cosa devo fare per placarli? Sono pronta a dire tutto quello che vogliono pur di togliermi da quella posizione sottomira. Il fatto è che non so che cosa vogliono che dica. Hai fatto tu le firme? No, stavolta rispondo in modo chiaro e forte per farmi capire bene, per assicurarli, per farli contenti tutti e tre. Mi aspetto un sospiro di sollievo e il premio di un sorriso. Mi aspetto che la signorina Pessina mi abbracci e mi chieda scusa delle dita conficcate nel braccio. Ma non succede. Certo che le hai fatte tu. E i denti sbattono dentro la sua bocca. No, grido io per lo spavento. Mi volto di scatto verso la porta. Voglio andare a casa. Voglio la mamma. Voglio che quella cosa finisca. Vengo afferrata dal segretario per il colletto. E rimessa davanti alla schivania. Perché? Trattate così. Il pianto si è calmato. Sono tutta bagnata ma tranquilla. Finalmente capisco la domanda. Non ho mai fatto nessuna firma in tutta la mia vita. e rispondo dentro di me. Gravemente. È inutile. È inutile che insisti a negare. Angela Ciuffolo. Hai appena confessato. Angela Ciuffolo. Mi fa effetto quel nome familiare distorto dal lugubre tono della voce. Mi fa sentire meno sola. Ha confessato. E che cosa? Domando. Dislancio sperando di uscire finalmente da quella tortura e vedere una luce. Lei non risponde. Che cosa ha confessato? Chiedo di nuovo nel silenzio di tomba che la domanda ha spalancato nella stanza. Ho sbagliato ancora a domandare. Domanda sbagliata. È la direttrice a darmi con voce gelida che ha a dirmi con voce... È la direttrice a dirmi con voce gelida che Angela Ciuffolo ha confessato tutto. La direttrice si china su di me. La sua faccia adesso è vicinissima. Il viso sembra scolpito in una pietra friabile scavata sotto gli zigomi taglienti. Ha le mascelle affilate come coltelli. La bocca si allunga verso gli orecchi come una crepa. Le guance sprofondono in una magrezza famelica. La sua testa è un teschio con una fiamma di capelli neri sulla fronte. Solo ora capisco che sembra feroce solo perché è bruttissima. Dimmi se hai filmato tu i voti di Angela Ciuffolo. Questa volta è quasi un sussurro. Una voce che non muove dalla sua autorità ma da una regione più profonda e più seria. È naturale ricambiala con la stessa serietà e faccio di nuovo di no con la testa. Mi sento di colpo pesante, stanchissima. È in quel momento che ho capito la fiducia. Ho capito l'idea di fiducia dai momenti in cui mi sono accorta di non avere la sua. Negare non è servito a niente. Potrei dire di no altre cento volte e giurare, buttarmi per terra, piangendo e supplicarla. Non mi crede e non mi dice perché. Capisco all'improvviso che la verità non è come si impara in classe, dove una risposta può essere solo giusta o sbagliata. Ora la risposta sono io ed è diversa da quella che conosce lei. C'è un errore nello sguardo della direttrice e una lente attraverso cui mi vede deformata. Ecco davanti a me la divina direttrice che sapeva piegarmi senza neanche rivolgermi lo sguardo per il pregio oscuro ma evidente che irradiava dalla sua terribile figura. Fino a stamattina ero sicura che Dio in persona l'avesse concepita con un aspetto così terrificante, con lo scopo di rendere la sua potenza evidente a tutti noi bambini e farci obbedire a qualunque ordine stravagante della scuola. Ma ora che vedo come sbaglia, ora che ho sotto gli occhi la sua cecità, questo prestigio svanisce di colpo. Se Dio non è il suo diretto superiore, la mia regina è stata misera nemica che mi chiede, anzi mi ordina di mentire. E neanche lo sa. La paura mi stringe al torace i suoi poteri fili di ghiaccio, ma è una paura nuova, deserta, senza più obbedienza. Per la prima volta vedo un limite alla sovranità della direttrice. Non può farmi dire quello che non è vero. Non posso dire una menzogna come se fosse una verità. Questo limite è sepolto mio malgrado dentro di me e mi costringe a oppormi a quella divinità che non avrei mai desiderato spodestare. Ora la giudico anch'io, non meno di quanto lei giudichi me. E anche se conosco solo una verità piccola che riguarda solo me, nel piccolo errore basta a scaraventare lei, la signorina Pessina, e segretario nel mucchio delle risposte sbagliate che prendono brutti voti a scuola. Sono sola. Smetto di piangere del tutto e contemplo la mia avversaria. È infinitamente più forte di me, ma le manca l'unica forza che è ancora efficace. Non ha ragione. Deciso il vincolo della sottomissione, il mio unico obiettivo è quello di uscire dalla direzione e sottrami fisicamente a lei. Finché non confessi non esci da questa stanza. Forse è perché non piango più e la guardo in faccia. Forse è la mia nuova compostezza, fa le intuire l'insopordinazione che sta maturando davanti ai suoi occhi e che alimenta i suoi sospetti peggiori. Ci scrutiamo da quella distanza e mi sento diventare più secca e dura anch'io, assimilata a quell'idolo che mi trovo mio malgrado a sfidare. Non abbassiamo lo sguardo. E i nostri occhi si incontrano a fondo, senza vanità. Rimaniamo in sospeso tutte e due finché il terrore di quel suppliccio interminabile mi fa gridare. Se proprio volete che lo dica, che ho fatto quelle firme e così mi manda a casa, io lo dico. Tanto so che non è vero. La direttrice impalidisce. Sono una vera delinquente. Un piccolo mostro. Grazie. Grazie.